Nella città di Cremona si registra un alto numero di società sportive cui cittadini sono iscritti. Usufruendone tutto l'anno hanno la possibilità di sopportare la calura estiva nelle piscine presenti al loro interno, servizio compreso nella retta mensile delle associazioni stesse. Coloro che per scelta e per necessità economica scelgono di non iscriversi a queste società sono costretti ad utilizzare gli impianti natatori presenti. Spesso vengono scelti quelli fuori Cremona per maggiore attrattività grazie alla presenza di scivoli e grandi spazi. Non escludere l'allontanamento dei cremonesi dall'utilizzo della piscina comunale a causa delle passate criticità. La piscina comunale è un po' che già da quando l'hanno ristrutturata non l'ho più frequentata perché secondo me è stata penalizzata come spazio. Poi comunque penso che sia uno dei pochi svaghi per la città, le società. Lei dove va fuori nelle piscine, negli acquapark fuori? Fuori acquapark a Manerbia, sul Bresciano dove c'è la possibilità. Non faccio parte di nessuna associazione sportiva quindi non saprei dirle. Andiamo in piscina ogni tanto e basta. Mandate alla piscina comunale o siete fuori agli acquapark? No, fuori, di solito fuori. Anche perché poi siamo liberi nel weekend e quindi nel weekend normalmente si va via tutto il giorno. Sono socio alla Baldesio e quindi anche adesso tra po' vado in piscina, andrò in piscina. Lei può andare tutti i giorni quando vuole? Sì, sì, certamente. Ma invece riguardo alla piscina comunale, chi ad esempio non è socio di queste, magari viene fuori da Cremone e si trasferisce, come fa secondo lei? Eh, questo è un problema sicuramente. Adesso non so in che condizioni sia la piscina comunale, però so che ha sempre avuto dei problemi e ne ha ancora. Quindi presumo sia abbastanza complicato per chi non è socio a una cannottieri andare e frequentare, insomma, ecco, una struttura di questo tipo. Infatti anche sui social sono in molti nei gruppi di Facebook, di Cremone a consigliare piscine fuori. Sicuramente sono più convenienti anche dal punto di vista delle strutture, insomma, anche dei prezzi probabilmente.